Ci troviamo alle pescherie di Levante di Giulio Romano, un insigne monumento eseguito da Giulio Romano nel 1536 e il nostro compito come fondazione delle pescherie di Giulio Romano è quello di recuperare l'antico legame che la città di Mantua ha con l'acqua e con il rio che è il suo grande canale, che è stato il centro di tutte le attività commerciali, produttive e sociali fino al secolo scorso. Il primo grande obiettivo è stato raggiunto e viene valorizzato attualmente con questo progetto del PIC. Parte delle opere già previste in questo lotto sono già state finite, in particolare la pavimentazione del sottoponte, la risistemazione della cosiddetta spiaggetta, quest'area che si affaccia sul rio direttamente e gli ambienti voltati che troviamo sempre al piano del rio. Il cantiere in corso ha lo scopo di completare un complesso di opere che rendano completamente accessibile e fruibile alla cittadinanza l'intero complesso. Le opere è previsto che finiranno entro il 31-12 di quest'anno. L'azione si inserisce in un progetto più ampio di Heritage Center, un Heritage Center diffuso che vuole interpretare il sito UNESCO e lo vuole fare tramite la valorizzazione di edifici ad oggi ancora sconosciuti, edifici che vengono aperti al pubblico dopo molto tempo e che grazie alla loro collocazione speciale permettono l'interpretazione del patrimonio da punti di vista diversi. Le pescherie di Giulio Romano sono uno di questi edifici che verranno valorizzati e che sono interessati dal finanziamento PIC. L' Heritage Center ha come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza, essere aperto alla cittadinanza e permettere un'accessibilità e un'inclusione diffusa. Questo verrà fatto tramite alcune laboratorie ed esperienze dedicate alle scuole, alle associazioni, agli istituti culturali della nostra città, ai giovani ma anche ai turisti e lo faremo tramite laboratori e modalità nuove di coinvolgimento della cittadinanza. Uno dei luoghi interessati sono le pescherie di Giulio Romano che sono oggetto di finanziamento del PIC. Tale spazio sarà attrezzato affinché il luogo sia accessibile a tutti, accessibile e inclusivo e sarà dotato di strumentazione adatta ad educazione al patrimonio, rivolta principalmente alle scuole, ai turisti, alla cittadinanza tutta e anche tramite associazioni del territorio e istituzioni culturali del territorio.